Buongiornissimo, buongiornissimo, è già stata la settimana. Nel mondo ci sono tante cose brutte. La guerra. La violenza. La droga. La politica italiana e tanto altro. Per poter sopportare tutto questo, abbiamo bisogno dell'unico video in grado di aprirci la mente su quello che non sappiamo e che nessuno ci vorrà mai dire. Non possiamo far altro che volere il ritorno della migliore anche se poco vista rubrica di multiplayer. L'idiozia è un esempio per le generazioni che ci sono e ci saranno su quello che la mente umana può concepire, per evitare alle persone di commettere gli stessi errori. Per questo chiediamo che l'idiozia della settimana ritorni.